Io ho 80 anni, 81, voi avete già fatto i conti. Io sono ancora qui perché è mia convinzione che tutte le battaglie che ho fatto e che non mi sono mai arrestata, perché è venuta la liberazione, però dopo la mia battaglia più grande è incominciata. Perché sono convinta che anche le vittorie avute non sono mai eterne, possono sempre essere cambiate. Noi abbiamo avuto la fortuna, e i giovani in particolar modo, che sono 60 anni che l'Italia non è più in guerra. Abbiamo avuto delle partecipazioni, però direttamente no. Io penso che questo sia dovuto anche a quel briciolo di attività che ci ho messo anch'io, assieme a tutti gli altri, e assieme a tutte le donne che hanno gli stessi miei sentimenti. Questo ci tengo proprio a precisarlo. Grazie.